A Pollo d'Oro 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 Sei vivo Volevano uccidere Kenut Ma la morte Ha trovato prima loro Mi dispiace Ma andava fatto Quei soldati non capiscono altra lingua a parte la violenza C'è dell'altro Il capitano seguiva degli ordini Portava con sé questo simbolo Lo conosci? Sì...e non mi piace Viene da Forte Bubasti, a Est, comandato da un altro idiota che si crede intoccabile. Kenut aveva ragione. La gente soffrerà ancora se non agiamo. Bayek, mi spiace dover chiedere di nuovo il tuo aiuto. Lo avrai, ma prima c'è qualcosa che devo fare. Tornerò presto. Tornerò presto. Shadia, mio lodo, nessun altro soffrirà come hai fatto tu. Questa è una promessa. Addio, mia dolce ninfea. Nuota per sempre libera. È così. Sì, i soldati erano solo l'inizio. Occupiamoci di questo comandante. Servono più informazioni. Fin dove arriva la corruzione? Potrebbe aver raggiunto anche la cerchia di Tolomeo. Non possiamo fidarci delle guardie. Da soli è impossibile. Ci serve il Fayum. Molti contadini non parleranno per paura dei soldati. Ma sono stanchi. Non ci vorrà molto per convincerli. Parlerò con il contadino minacciato dal capitano. Spargerò la voce. Ehi, so cos'è successo coi soldati. La signora Kenut ha corso un bel rischio. Apprezzo ciò che ha fatto, ma non cambierà niente. Scusa, ma devo tornare al lavoro. Ho molti fuochi da accendere. Posso aiutarti? Che stai facendo? Accendo i fuochi. Sei un gran testardo, vero? Ra ti donerà raccolti abbondanti, vedrai. Fatto. È arrivato il momento di ribellarsi a quei soldati. Otefres lotterà con voi. Otefres ci ha abbandonati da tempo. Suo padre era un brav'uomo. Ha dato al figlio un nome egizio. E ci ha fatto piacere. Ma non poteva dargli un cuore egizio. Otefres nella nostra lingua significa soddisfatto. Ma lui non l'ho mai stato. Ci ha abbandonati in mezzo alle iene, ai coccodrilli. Ma i coccodrilli possono morire. Il capitano è morto. Su, fratello. Spargi la voce. Hai ucciso il capitano. Oh, sei davvero un pazzo. Va bene. Se ci sei anche tu. Conta su di me. Spargerò la voce. Fatevi da parte. E mi seggeri et. Non credevo fossimo a questo punto. Cioè, sapevo che c'erano problemi. Ma questo no. È solo colpa mia. Non volevo la responsabilità del Fayum. È stata un'eredità forzata. Io amavo la mia nave, le mie avventure. Ma... Ora capisco. Scegliere è possibile. E io sono ancora vivo. Sono nella villa. Sul retro. Voi, seguitemi. Soldati! Dove sei? Infame! Vieni giù. Parliamone. Direi che la decisione è già presa. Dai, fratello. Facciamo parlare le nostre spade. Ti guardo le spalle. È bello di averti con me, fratello. Ti batti bene per essere un vecchio. Non sono ancora decrepito. Beh, ce ne siamo accorti. Ma non basterà. Tra poco arriveranno altri soldati. Ho ereditato molto di più dell'abilità con la spada. Assolderò un esercito, se serve. Forse ho un'idea migliore. Bayek, mi accompagneresti in un breve viaggio. Sono pronto. Andiamo. Siete un'ottima squadra. Otefres non ha per niente perso il suo smalto. Mi sembri fiera di lui. È bello ritrovare l'uomo che ho sposato. Dove andiamo? Verso un accampamento ribelle. Si trova a est di qui, vicino a Forte Bubasti. Andremo a trattare con loro. Ribelli? Non ci attireremo addosso l'ira di Alessandria. Alessandria non è nuova agli intrighi, Meghai. A volte si offrono favori per informazioni o protezione. Sono alleanze necessarie, anche se non ufficialmente riconosciute. Di qua, l'accampamento è più avanti. Dobbiamo essere cauti. I ribelli non sono famosi per l'ospitalità. Li ho avvertiti, sanno del nostro arrivo. Sono Kenut. Ho annunciato da Filadelfia la nostra venuta. Ci serve il tuo aiuto. È fatica sprecata. Mi spiace, non posso aiutarvi. Noi non stiamo chiedendo la carità. Possiamo darvi cibo, risorse e informazioni. In cambio chiediamo soltanto protezione per la nostra gente. Ho detto che è impossibile. I soldati hanno arrestato il nostro capo alla diga. Forse allora possiamo aiutarvi noi. Lui è Bayek di Siwa. Tu sei Bayek di Siwa? Conosciamo le tue imprese nell'arena. L'eroe che è riuscito a battere i fratelli gallici. E credo che oggi dovrò vestire di nuovo quei panni. per aver guardato il nostro capito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.